Terribile tragedia a Fonzaso, nella provincia di Belluno, dove un uomo di 50 anni si è tolto la vita a causa dei sensi di colpa dopo che è deceduto il padre. L'anziano, un ottantenne, era morto di infarto dopo un litigio che aveva avuto proprio con il figlio. Secondo quanto si apprende, l'uomo si sarebbe suicidato poco dopo a causa dei sensi di colpa. Al cinquantenne, dopo l'accesa lite, avrebbe visto il padre accasciarsi e cadere dalle scale. La mamma, allarmata dall'assenza del figlio, ha denunciato la scomparsa ai carabinieri. L'uomo è stato trovato in fondo a un diruppo dopo la segnalazione di un escursionista.